buongiorno siamo oggi col team rcf con il nostro capitano moreno moser e stiamo per partire qua da cigliano sarà un'esperienza bellissima il tempo è un po così ma quando si pedala in compagnia è sempre magnifico a breve partiremo che dire che dire è un'esperienza bellissima già dal dalla reception una grande organizzazione qualcosa di veramente bellissimo per me è un sogno oggi poter partecipare a 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 Grazie a tutti.